Consigliere Civati, che cosa ne pensa di questa seduta? L'impressione è che siamo in una fase molto delicata in cui forse non solo i nord divengono al pettine, ma cambierà anche il nostro consenso verso forze politiche che non hanno fatto bene né al nord né all'abrianza, nonostante tutta la retorica di questi anni. Grazie.